3 agosto 2021, la trimestrale di Corsair Gaming, azienda di cui vi abbiamo già parlato, azienda in cui crediamo molto nonostante le performance negative che ci sono state in questi ultimi mesi. Infatti l'azienda ha avuto un depreciamento del suo valore e si trova a un prezzo che è circa il 45% in meno rispetto ai massimi. Ciao a tutti i miei stori e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Fabio e oggi parleremo di Corsair Gaming e andremo a vedere la sua trimestrale. L'azienda non ha battuto le stime. Come possiamo vedere ha mancato di 0.03 centesimi di dollaro l'earning per share, dichiarando un EPS di 0.36 centesimi verso i 0.39 che erano stimati. Anche dal lato ricavi la trimestrale sembra sia andata male, infatti le stime sono state mancate per 2,25 milioni di dollari. Ma andiamo a vedere nei dettagli la trimestrale e scopriamo insieme se effettivamente è andata così male. Partendo dagli highlights abbiamo dei ricavinetti di 472.9 milioni di dollari, un incremento del 24,3% dall'anno precedente in cui le revenue erano di 380.4 milioni di dollari. Questi ricavi derivano per 155,2 milioni di dollari dal segmento gamer e creator, quindi includono tutto ciò che riguarda anche la sfera streaming e il gruppo Elgato, con una crescita del 40,9% dall'anno precedente, mentre 317,7 milioni di dollari, quindi con un incremento del 17,6% anno su anno dal segmento componentistica gaming. Quindi diciamo ancora da questi dati possiamo vedere come il segmento gaming, quindi appunto componentistica sia il segmento core per l'azienda, ma possiamo notare come ci sia una grande crescita appunto nel segmento gamer e creator, appunto si parla di un 40,9% dall'anno precedente, e questo ci fa sperare in una crescita, una buona crescita anche nelle linee successivi e quindi il possibile punto di forza, o meglio il punto di forza di Corsair in questo segmento, magari rispetto ad altri competitor. Corsair con Elgato quindi diventa sempre di più un punto di riferimento per i creators, specialmente per chi fa streaming, quindi punto per gli streamer, utile lord di 130,4 milioni con un incremento del 24,1% anno su anno, reddito operativo di 34,7 milioni con 4,7% in meno rispetto all'anno precedente. Ovviamente ci sarebbe da ragionare su questo e capire le ragioni di questa decrescita, di questo 4,7% in meno, ma sicuramente lo capiremo più avanti nel video. Vi ricordo comunque che il reddito operativo tiene in considerazione nel suo calcolo i ricavi e anche il costo delle merci vendute. Quindi ricavi e costi delle merci vendute così da ottenere quello che si definisce profitto lordo. Abbiamo un reddito netto pari a 27,7 milioni rispetto ai 22,6 milioni dell'anno precedente, al 30 giugno il cash è pari a 138,6 milioni con debiti di lungo periodo, pari a 270 milioni. Flusso di cassa di 31,6 milioni rispetto ai 73,6 milioni dell'anno precedente nello stesso periodo, quindi nel secondo trimestre del 2020. Il CEO di Corsair, Andy Paul, afferma Sono soddisfatto della nostra performance nel secondo trimestre, crescita del fatturato del 24%, risultati che evidenziano la forza dell'azienda con i gamer che continuano ad aggiornare la loro attrezzatura, acquistando quindi nuovi prodotti Corsair. Abbiamo sperimentato una crescita in ogni categoria, nonostante la carenza di componenti chiave, come schede grafiche, problemi logistici e ritardi nei porti. Il CEO quindi si sofferma su questi problemi che hanno in qualche modo comunque ostacolato sia la crescita dell'azienda sia magari la percentuale di utile dell'azienda, in relazione quindi ai prodotti venduti. Quindi diciamo il CEO fa alludere al fatto che se non ci fossero stati questi problemi la crescita dei ricavi magari sarebbe stata ancora più alta. Non penso che si possa mettere in discussione questa affermazione perché il problema dei semiconduttori, quindi delle carenze di questi chip che poi sono essenziali per la produzione di alcuni prodotti effettivamente questo problema esiste e in più vi è un effettivo ritardo nei porti a causa comunque delle varie situazioni che già conosciamo. Questo non solo ostacola il business per quanto riguarda la disponibilità di prodotti e la sua relativa produzione, ma anche per quanto riguarda appunto l'utile che l'azienda riesce a ricavare, ad avere per ogni prodotto venduto. Quindi sicuramente la percentuale sarà minore nel caso in cui i costi siano maggiori. Ancora il CEO afferma Stiamo investendo in ricerca e sviluppo, marketing e infrastrutture mentre rimaniamo concentrati sull'espansione delle nostre risorse. Ad esempio siamo entusiasti del recente lancio della nostra prima fotocamera che ha ricevuto una risposta estremamente positiva dalla community di creators. Abbiamo lanciato più di 75 nuovi prodotti quest'anno con un ritmo di innovazione sorprendente. Aggiunge il CFO, ovvero il Chief Financial Officer. Abbiamo utilizzato parte del flusso di cassa per ripagare 25 milioni di debito durante il secondo trimestre e rimaniamo concentrati sull'ulteriore ottimizzazione della nostra struttura patrimoniale. Durante il secondo trimestre abbiamo registrato costi logistici superiori alle attese e prevediamo che questi costi rimarranno elevati nel terzo trimestre. Anche le chiusure causate dalla pandemia hanno avuto un impatto negativo sulle nostre operazioni. Continuiamo ad investire nella crescita futura per mantenere alto il nostro tasso di lancio di nuovi prodotti. Corsair quindi, come abbiamo potuto vedere, sta crescendo. Ha avuto sicuramente dei rallentamenti, quindi questi ostacoli che hanno rallentato la sua crescita ma allo stesso tempo rimane focalizzata nel raggiungere il suo obiettivo precedentemente comunque annunciato che comunque vedremo in maniera più approfondita successivamente e nello stesso tempo non solo sta crescendo aggiornando, quindi innovando i prodotti e portandone di nuovi ma allo stesso tempo sta riducendo il suo debito. Debito che adesso ammonta 270 milioni di dollari. Importante a mio parere questo fattore, importante che il CFO ne abbia parlato perché ha l'interesse di ridurre appunto la sua situazione debitoria e avere uno stato patrimoniale, un bilancio che sia esemplare in buona salute. Quindi ripeto, sono molto contento del fatto che non sia sottovalutato il lato debiti e avere solo la preoccupazione di spingere la crescita. L'amministrazione infatti ha già annunciato di voler ridurre di 100 milioni di dollari i suoi debiti nell'arco del 2021. Questa è una nota interessante e sono molto felice di sentire queste parole da parte dell'amministrazione poiché io preferisco avere investimenti in aziende che comunque appunto cercano di avere un bilancio esemplare nonostante rimangano focalizzate sulla crescita. L'outlook rimane invariato con l'obiettivo di raggiungere ricavi pari a 1,9 barra 2,1 miliardi di dollari per l'intero 2021 con EBITDA rettificato pari a 245 barra 265 milioni di dollari. Ricordo che Corsair ha chiuso il 2020 con dei ricavi pari a 1,7 miliardi di dollari quindi nel caso in cui questi obiettivi del 2021 siano rispettati Corsair avrà un incremento effettivo di circa il 24% anno su anno che a mio parere è davvero buono visto anche il prezzo di valutazione dell'azienda in questo momento in questo preciso momento. Non male soprattutto se si considerano appunto gli imprevisti di cui abbiamo già parlato imprevisti che non si sono verificati solo per l'azienda Corsair bensì si sono verificati anche per diverse aziende che in qualche modo sono collegate al discorso semiconduttori quindi per la produzione appunto dei loro prodotti. E' vero anche che il CFO ha già annunciato che questo outlook potrebbe variare nel caso in cui questi ostacoli continueranno ad esserci anche nei successivi trimestri. Inoltre abbiamo di recente registrato già un altro video su Corsair in cui abbiamo parlato della presentazione di alcuni prodotti che l'azienda ha appunto presentato e quindi per chi non ha visto già quel video vi lascio qui il video e il link da qualche parte così che possiate andare a recuperarlo. Lì in quel video troverete diversi commenti e considerazioni che comunque abbiamo fatto sull'azienda. Dopo aver visto comunque questi dati quali sono le mie considerazioni? Le stime non sono state battute di pochissimo nonostante i vari problemi che l'azienda ha dovuto affrontare. Crescita dei ricavi del 24% rispetto al secondo trimestre del 2020 quindi dell'anno scorso e il prezzo per azione attuale dell'azienda in questo momento che sto registrando questo video è di circa 28 dollari con un P ratio pari a 17,87 e un forward P di 13,97 price sales di 1,31. Quindi quali sono le mie considerazioni? Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che a mio parere queste metri con pre-sessi di 1,31 per un'azienda che cresce del 20% anno e potrebbe anche fare di più visto che abbiamo già parlato di questi problemi che l'azienda ha avuto e per un'azienda che sta diventando diciamo leader in una micronicchia che è quella degli streamer quella relativa appunto ai creators quella relativa ai gamer a mio parere è appunto sottovalutata poiché possiamo già vedere dalla presentazione di questi prodotti come l'azienda sta spingendo in quella direzione come le crescite in quel segmento anche in questo trimestre sono state del 45% circa abbiamo detto quindi si può vedere un notevole vantaggio competitivo rispetto ai suoi competitor ovviamente non è tutto perfetto infatti non sono amante della quantità di debiti che l'azienda presenta ma sono felice del fatto che l'azienda appunto si stia preoccupando di ripagare questi debiti e l'amministrazione ha già dichiarato che cercherà di ripagare 100 milioni di dollari di debito quest'anno nel 2021 quindi sono contento della preoccupazione che l'azienda ha dell'istituzione debitorio come già detto in precedenza e del fatto che non siano sottovalutati questi debiti quindi l'amministrazione non si preoccupa appunto solo dell'alta crescita quindi solo dell'investire crescere investire crescere e aumentare i debiti bensì cerca di avere un equilibrio un equilibrio su entrambi i fronti nonostante comunque presentare 75 prodotti non è sicuramente da tutti e c'è un tasso di innovazione un tasso di introduzione nel mercato di questi prodotti che è molto alto lo scopo dell'azienda è chiaro è quello di avere tutti i prodotti necessari per i creators per i gamer per gli streamer tutti sotto il nome Corsair e Delgado quindi mirare in quell'ecosistema così che un consumatore abbia tutto ciò che gli serve e tutto sotto lo stesso brand questo permette quindi all'azienda di aumentare il valore medio del carrello nel senso c'è un consumatore che a quel punto scegliendo ad esempio un prodotto Elgato a quel punto magari sceglierà per il comparto video la facecam di Corsair per il comparto luci le luci di Corsair quindi a quel punto l'azienda sfrutterà quello che si definisce Crossell o Upsell per vendere nuovi prodotti per aumentare il suo carrello e quindi per generare più profitti riducendo i costi l'azienda quindi è un prezzo che è del 40% in meno rispetto al massimo quindi a mio parere c'è un buon margine di sicurezza e abbiamo già visto questo tasso questa crescita di ricavi parecchio elevata e un price sales molto basso un P ratio altrettanto basso quindi a mio parere è un buon investimento per il lungo periodo poi non sono un consulato finanziario non sto consigliando di investire in Corsair quello che sto dicendo è semplicemente che voglio espormi nel dire nel parlare del mio investimento è del fatto che sto aumentando le mie posizioni credo molto nell'azienda e sinceramente vorrei ancora aumentare la mia posizione in Corsair non ho ancora ben chiaro quanto quale percentuale del mio portofolio totale voglio allocare in questa azienda ma se l'azienda continua a tenere comunque una crescita del genere la prossima trimestrale sarà buona e magari il prezzo rimarrà così basso ancora più basso sicuramente continuerò ad incrementare inoltre vorrei sapere nei commenti cosa ne pensate dell'azienda se state incrementando se avete venduto se siete scontenti di queste performance negative che ci sono state nell'ultimo trimestre o se la state vedendo come un'opportunità appunto per aumentare le vostre posizioni oppure per entrare per iniziare ad investire nell'azienda nel caso in cui non abbiate nessuna posizione inoltre vorrei sapere anche cosa ne pensate della trimestrale se secondo voi è buona o se vi aspettavate molto di più dall'azienda inoltre nel caso in cui notassimo dell'interesse da parte vostra per Corsair Gaming faremo sicuramente un altro video in cui andremo a parlare del valore intrinseco che secondo noi l'azienda ha il video di oggi è terminato spero vi sia piaciuto e nel caso appunto vi sia piaciuto vi chiedo gentilmente di lasciarci un like ed iscrivervi al nostro canale vi chiedo anche gentilmente di seguirci su Instagram e il nome della pagina è solo azioni così come il canale ciao a tutti i miei stori al prossimo video iscrivervi al nostro canale